Abbiamo trasmesso Monza 1, Rabiot 2. Senza il francese, questa sera la Juventus avrebbe fatto un'ennesima partita imbarazzante e inguardabile. Adesso noi siamo tutti contenti perché abbiamo vinto, siamo momentaneamente prima in classifica per la quarta volta e poi probabilmente per la quarta volta l'Inter ci scavalcherà o ci aggancerà, però non se ne può veramente più. La Juventus ha fatto gol nei primi minuti, al decimo, dopo una vacata sesquipedale di Lovic, che comunque apro una parentesi, la Juve non ha rigoristi. Vi ricordo che l'ultimo rigorista è stato Dybala, che ne sbagliava tantissimi, dopo la Juve non ha più trovato un rigorista. Chiesa li sbaglia, Rabiot li sbaglia, Lovic li sbaglia, cioè non abbiamo rigoristi, quindi voglio dire, boh, è vero che ce ne danno pochi, però insomma che qualcuno buttarlo dentro non sarebbe male. Stavo dicendo, il decimo minuto, la partita va, si incanala su 1-0 per la Juve, ti aspetti che la Juve in qualche maniera provi a chiuderla, ci prova, Gatti fa un errore clamoroso sotto porta, però poi ovviamente si farà perdonare sul finire, come abbiamo ben visto, ma non è possibile che una Juventus si fa prendere la pallonata. È vero che non ha mai tirato in porta, anche perché quando tirano in porta è in genere il bello addormentato nel palo, cioè il nostro portiere prende gol, perché è il gol che ha preso questa sera. Qualcuno mi ha detto, Max, capisci di calcio ma non capisci di portieri? Io non capirò di portieri, magari non capisco neanche di calcio, però per me questo qua è un portiere d'albergo. Sarebbe ora che la Juventus pensasse di mandarlo in pensione o promuovesse Perin o andasse a prendere un carne secca, un vicario, un portiere su cui puntare e da far crescere, perché onestamente questo portiere qua veramente, cioè, dorme in porta. Per me questo gol qua è bellissimo il tiro del ragazzino del Bonza, però un tiro da 40 metri a giro che entra lento in porta e lui aspetta che la palla arrivi più o meno a un metro dai pali per buttarsi. È un po' tardi, è un po' tardi, quindi dopo ne parlo nelle pagelle, ma un allenatore che ti mette in campo per far giocare il peggior giocatore della Rosa della Juventus, che per me non è Mieretti ma è Kostic, subito dopo Mieretti ma è Kostic, fa snaturare il gioco della Juve, perché McKennie è centrocampo per la seconda volta ha giocato malissimo, perché McKennie sta rendendo bene largo a destra, e snatura Cambiaso, che sarebbe il titolare della fascia sinistra, appunto, al posto di Kostic, per far giocare appunto Kostic, quindi snaturare McKennie, snaturare Cambiaso, per far giocare questo pippone. Stasera poi abbiamo visto anche il ritorno dell'altro, quell'altro, la Sagura, che ha fatto due cagate sul finire, che meno male che è intravenuto una volta Bremer, una volta Gatti, a salvare, e poi ragazzi, cioè, la Juventus non gioca, la Juve non gioca a calcio. È vero che il possesso palla della Monza è stato sterile, come spesso accade che il possesso palla delle squadre avversarie della Juve è sterile, ma la Juve non gioca a calcio, cioè, appena ha preso il gol dell'1-1, fortuna che c'erano ancora un paio di minuti, ha cominciato a giocare a calcio, cioè a spingere, non a giocare a calcio, perché giocare a calcio è una parola grossa, a spingere, ma non si può avere, cioè, questo qua continua a vincere partiti di culo, cioè, anche questa sera deve ringraziare la botta di culo, deve ringraziare Rabiot, perché, cosa ho detto all'inizio, Monza 1, Rabiot 2, perché Rabiot stasera è stato sontuoso, per distacco il migliore in campo, e guardate che il distacco è enorme, perché c'è lui e poi tutto il resto che è stato veramente imbarazzante, Nicolussi è stato un altro che mi è piaciuto molto questa sera, ma, ripeto, sono anticipazioni delle pagelle che non vorrei fare, cioè, è un... ma non è neanche una sofferenza, io avrei voluto iniziare, se finiva 1-0, avrei voluto iniziare il commento dell'analisi della partita con una citazione di Califano, questa Juve è noia, 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 la Juve, questa Juve è una noia, è una noia, abbiamo avuto l'impennata con il gol di Rabiot, bellissimo, sul calcio d'angolo battuto da Nicolussi, dopo l'erroraccio schifoso di Vlaovic, e poi il finale, il rocambolesco, con Rabiot che fa un'altra super giocata, viene sul fondo, mette un pallone in mezzo, Gatti che la cicca ancora, quindi sta per rischiare di fare un'ennesima, poi però tira un siluro in porta e si fa perdonare di tutte le vacate che ha fatto questa sera, e trasforma un'insufficienza, ovviamente, ovviamente in una sufficienza, perché ti fa il gol che ti porta a tre punti, ti porta la Juve, temporaneamente, lo dico anche per Scaramanzia, prima in classifica, e quindi staremo a vedere cosa succede, però, però, attenzione, attenzione, non abbiamo un rigorista, l'allenatore mette i giocatori fuori ruolo, il centrocampo non propone palloni, perché ci sono stati almeno 30-40 minuti di inesistenza del centrocampo, l'unico era Nicolussi che cercava di recuperare palloni, poi è chiaro che quando Rabiot è in serata, come questa sera, entra in partita e parte, è devastante, per me Rabiot, come centrocampista di ripartenza, in questo momento è il numero uno al mondo, di ripartenza, non parlo di giocatori che propongono calcio, aprono il gioco, giocano nello spazio, oppure fanno dei filtranti, però, cioè, la Juve ha bisogno di un giocatore, almeno, almeno, da dare una mano a questo ragazzo francese, perché, onestamente, se tu devi mettere in campo Danilo a centrocampo, se tu devi mettere in campo Danilo a centrocampo, per sostituire un Nicolussi che stava giocando anche bene, non si capiscono questi cambi di Allegri, cervellotici, poi, una piccola parentesi, io darò un SV perché è stato poco in campo, ma Ken è da aprile che non fa gol, Ken è tutto forché è un centravanti, Ken, dei primi due palloni che ha toccato, ha fatto due vaccate sia sui pedali, tant'è che Allegri si è tolto il cappellino che aveva, era incazzato come una iena, quindi, cosa lo metti in campo? Ma cosa lo metti in campo? Vero è che questa sera trovare un centravanti da Juve che ha giocato bene è una chimera, però, ripeto, questo qui gioca male, mette in mano i giocatori in campo, sbaglia i cambi, però ti vince le partite, se questo non è culo, non so che cos'è, però, come si dice, no? Siamo Juventini, importante vincere, no? Lo diceva Boni Pertini, vincere non è importante, è l'unica cosa che conta, facciamo schifo, giochiamo male, la Juve è di una noia mortale, però, incredibile, ma vero, incredibile, ma vero, siamo per adesso primi in classifica, buah, misteri del calcio, per chi vuole, fra poco, mezz'oretta, ci sono le pagelle, buonanotte a tutti e buon weekend, ciao! Grazie a tutti!